Ciao a tutti i drivers, sono Francesca e ben tornati sul canale e benvenuti in un prunissimo video di Pet Simulator Non ho la più parida idea di cosa sia questo gioco, ma ho visto che attualmente ci stanno giocando più di 100.000 persone Quindi devo provarlo, devo capire che cos'è, devo capire che cosa succede Da quel che mi sembra molto simile ad Adopt Me, perché qua già mi trovo una schermata Which pet do you want to start with? Con quale pet vuoi iniziare? Però ragazzi non vi preoccupate, non vi preoccupate assolutamente perché Adopt Me torna domani Come al solito ci saranno un sacchissimo di video di Adopt Me e provare un nuovo gioco non vuol dire che sto abbandonando Adopt Me, anzi Quindi ragazzi io inizio già con il dire che se conoscete questo gioco, datemi dei consigli in giù nei commenti che cosa bisogna fare E se volete altri video già vi raccomando lasciate un bel mi piace adesso iscrivendovi anche al canale Tappando la campanella Instagram e TikTok li troverete giù in descrizione Come giù in descrizione troverete il sito delle nostre magliette Il merch, il merch, il merch stop dreaming e anche il sun gaming Ragazzi sono molto curiosa di provare questo gioco Si chiama Pet Simuleto E no, con quale pet voglio iniziare? Il gattino ovviamente Voglio iniziare con un gatto Devo dargli un nome e lo chiamiamo Bonny Come il mio gatto Mi piace questa cosa Ah, ho il mio personaggio Ok, allora Pets Ho solo un gatto No, posso eliminare i pet Oddio no Ok, qui ci sono le persone che possono fare trade Obiettivi Ah, quindi ok Si hanno gemme e soldini per fare cose Poi abbiamo le cose che si comprano appunto con i redeem Qui ci vuole il codice che non ho Ok, va bene E vabbè, questi poi si comprano Sono tutte cose che si comprano con i robux Per il momento non compro niente Perché ragazzi non so se mi conviene fare qualcosa del genere Allora, trading all music Oh no Ok, yes Soldi Ok, questi soldi si raccolgono? Ah, me li deve raccogliere il gatto? Ma ci mette una vita Fratello ci metti veramente una vita? Ah no, che non voglio comprare niente Questo shop è town Questi altri si sbloccano con i soldi Vabbè, questi soldi sono miei, ok Gatto, vieni qui qua Questo è più piccolo Ci metti meno tempo Uh, monete, monete Fantastico, ma sei potente Bonnie, ma sei fantastica Ok, quindi ho ben 127 soldini adesso Carino Ok, ma dove sono le persone? Non ci sono altre persone? Allora, capiamo Ma, ma tu si compra tutto in questo gioco Top player world wide In questo server Ma che sono questi gattini? Sono i pet che hanno Cioè ragazzi, credo che siano i pet che hanno Perché French Dreams Official Un pet Che si intende con 33 milioni di pet? Oddio ragazzi, mi dovete spiegare Ah, questa è la tabella dei pet Maro Ma quanti ne sono? Soldini che saltellano Che escono da questa fontanina Quindi, ok Non ce li prendiamo Perché quanto pare Male non ci fanno Ma quelli sono diamanti Che cos'era? Perché sono all'1%? Immagino si compra Grazie, no Prendi queste gemme, va Ma 500 E mentre fai quello che devi fare Io mi faccio un piccolo giro Eh, però prendo un sacco di gemme così, eh Vieni che prendo un sacco di gemme Bravo gatto, bravo gatto Continua, continua Dammi le gemme, gatto Vai Bonny Go Bonny Allora, VIP polling Quindi quella stanza è solo per i VIP Che dite? Me lo compro? No, eh Facciamo così In un prossimo video mi compro il VIP Se vi interessa Mimmo quante gemmine Vai Bonny Vai Bonny Che mi piaci Vai Trade golden head for gem Perché gli posso Golden pet Perché gli posso dare le gem Vai Bonny Ma se Se stai fare da pet a pet Gli incantesimi Ma che si intende? Mamma mia Non sto capendo Capirò Capirò Lì c'è lo shop Adesso comunque andiamo a capire Qua 5 pet Trasformi un pet dorato Ok, ne ho uno solo Quindi lascia stare 15 Ma dove sono tutti? Quindi abbiamo Gli starter egg Che cosa? Bonny A questo punto Mi servono i soldi Mettiti a scavare Torno subito Allora abbiamo I starter eggs Il forest eggs I beach eggs Mine eggs Ovvero penso cose della miniera Poi qui sopra abbiamo Volcano eggs Desert eggs Glacier eggs Winter eggs E questa porta poi Chiusa Sì ma dove sono le persone? Ehi ci sono delle persone Fratello Come si gioca Ok Bonny Hai preso Vai Bonny che apriamo il nostro primo uovo Vai vai Ok Dice che adesso posso andare a comprare il mio primo uovo Me l'ha proprio detto Ok Eccolo Devo per forza comprare il mio primo uovo Dal quale posso uscire un gatto Un cano Un cano Un coniglio Un altro coniglio E il panda Da quest'altro può uscire la mucca Il maiale La gallina Il pulcino Un personaggio E questi sono dorati Giraffa Vabbè ok Allora compro questo Sì Ah non si fanno milioni Che carino Ma Mi seguite Wow Ok ragazzi Faticate che voglio aprire altri Voglio aprire altre uova Quindi dai Faticare Forza Uno va qua E un altro va qua Vai Mi piace così Vai Aspetta E posso dare un nome Anche a quest'altro Bonus Ok 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 Dobbiamo arrivare a 5 Ah dobbiamo arrivare a 1000 Ragazzi Aiuta Fate insieme Forse se fate insieme Ci mettete meno tempo Mentre state qui Io vado a capire un attimo Quella cosa Semplicemente Sblocco aree Per poter scavare di più E questa semplicemente È la cosa che faccio Giusto Ho capito bene No 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 La compro Voglio vedere se riesco a capire Là c'è qualcosa però Ah avete fatto Bravi bravi Si corre più veloci Si compra l'overboard In bacio Quanto costa l'overboard 250 Vabbè Compriamolo Sono più veloce Anzi Dov'è l'overboard Ah Ah ragazzi Sono velocissima Così vai E ci voleva Ok ragazzi Posso andare a comprare Un altro Voi restate qui a scavare Si Ci sono Ci sono Apriamo tre uova Mucca Mucchina Che carina 38% Ok quindi poi abbiamo Quell'altro per 38% Ok Mucchina scava No non lo so Lo vedo un po' Sfruttamento No questa cosa Che ho messo I miei animaletti A scavare A terra No non è Sfruttamento Questo Lo compro sempre Questo Si vai Oh no Un altro Coniglio La mucca Pure ha fatto E Bonnie è rimasto Alla Rimasto Avete lasciato A Bonnie Da sola Ragazzi Mi avete lasciato A Bonnie Qui da sola A scavare Forza Continuate Tutti quanti Aiutate A Bonnie Ok Cioè Ha cancellato La richiesta Eh vabbè Fratello Lo capisco Hai ragione Hai ragione Allora Un regalo Prima non c'era Questo vero Allora Ho 2000 Che cosa posso comprare Per 2000 2700 E compriamo Quello d'oro Ok 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 Posso comprare Un uovo dorato Vai Allora Nella chat Già stanno scrivendo Se sono Fake No Ovvero Cyber Super King Posso Allora Che ci fate Qua a scavare Siete a scrivere Posso scoprirlo Se sei la vera O la farsa Va bene Scoprilo Allora Dite che Voglio arrivare A 9000 A questo punto Secondo me Ce la posso fare Per arrivare A 9000 Per aprire L'uovo Con la giraffa Quindi Overall Ha scoperto Che sono la vera Ha semplicemente Credo abbia Semplicemente Visto No Ettore Non so scambiare Cioè Non Allora Ettore Anc Ma anche se scambiamo Non so scambiare Quindi lui È a scoprire Wow Ma guardate Che tiene dietro Ma che sono Queste cose Allora Posso comprare Questo Voglio la giraffa Voglio la giraffa Golden piggy Che carino Voglio metterlo Come lo metto Tolgo il coniglio E metto il pingu Questo Ma che carino Il pinguino Allora A questo punto In realtà Mi mancherebbe Da prendere Soltanto un uovo E poi E poi Li ho presi Tutti Quindi Ragazzi A lavorare Abbiamo Anche Cyber Cyber Super King Che ragazzi Wow Guardateli Vuole farmi Il trade Ma non so Che scambiare Ti regalo Tranquilla Li rifacciamo Velocemente Guardateli Tutti quanti Ma Ragazzi Dobbiamo andare A prendere La giraffa Allora Praticamente Devi prendere Dei soldi E poi Fai sempre Più potenti Ok Se hai Se hai Cinque doppioni Puoi farli Puoi fare Pet gold Ok Puoi fondere Con le gemme Posso fondere I pet Overwall Sei fantastico Ma il tuo nome Viene da Myro Accademia Upgrade Ah potenziare Me stessa Allora Quindi con me Abbiamo Cyber Super King Tenentino E over Oh gemme E over All Ok Mandami il trade Ti ho comprato Un pet Eh Tenentino Ma come si fa Eh No No Non so manco Che cosa Cioè Dammi qualcosa Di facile Ti do un coniglio Ok Io ho dato Il coniglio Mi ha dato Cioè guardate Mi ha dato Queste cose E non so nemmeno Che cosa sono Cioè No ma grazie Grazie a Tenentino Anche Anche Maria La super Ma non ho altre cose Che ti Wow Ma che cos'è Ma sono bellissimi Ma come ti do Le gemme Ti do le gemme Ti do le gemme Beh Non sto capendo Accetta Franci Non ho capito Che Non ho Non ho capito Ma mi sta dando Anche le gemme No Ma le gemme No No Mary Impinion Stallion Senti Ti do anche A te 100 gemme Ok Quindi Cioè Abbiamo anche Overwall Cioè Mi stanno regalando Tutti quanti Qualcosa Ma siete Fantastici Ho appena Adorato il mio petto Migliore No Overwall Però io non li riesco a capire Che cosa sono Abbiamo uno snake Uno stallion Snake Snake Molly Snake E il diavoletto Babushka Babushka Non lo so Babushka Aspetta Devo capire Allora io volevo andare a prendere Un ovetto Ok Voglio comprare questo Ok Sì Golden Bunny Che carino Ormai è inutile che apri queste uova Ai pet migliori del gioco Aprendo zone Con me I pet migliori Overwall Ma non si fa così Ma grazie Grazie davvero a tutti Babushka Ho fatto Ma c'è la lista Dei trade Fatti Non le posso vedere Cioè Comunque ragazzi Io vi voglio Vi voglio bene Vi voglio troppo bene Grazie Veramente Allora ragazzi Capirò come si gioca Usciranno altri video A riguardo Su questo gioco Sicuro Perché comunque Mi piace Non ho capito bene Ma capirò Voi spiegatemi Comunque nei commenti Ben nel dettaglio Tutto Grazie a Quindi A Tenentino A Overwall A Cyber King A Maria la Super E anche a Babushka Siete stati davvero Gentilissimi Grazie mille Per avermi regalato Questi pet Vi prometto Vi prometto Che capirò Come funziona Questo gioco E anche voi ragazzi Spiegatemi Cosa ci devo fare Sicuramente Almeno un altro video Ci arriverà Perché devo Almeno Rendere onore A questi pet Che mi sono stati regalati Quindi ragazzi Fatemi sapere Che cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Se volete altri video Del genere Per iscrivervi al canale Tappate qui sul pallino Mentre per vedere altri video Presente sul mio canale Cliccate qui sulle miniature Io vi saluto E ci vediamo domani alle 15 Con un nuovissimo video Ciao